Tanto tonuò che piove. I primi segnali c'erano già stati con le proteste di Lanzia Tornelli, dello stabilimento Eni, dei lavoratori dell'indotto che rischiano il proprio posto di lavoro. In più di un'occasione si disse che si sarebbero attivate tutte quelle procedure per arginare l'emergenza occupazionale. Ma a quanto pare così non è. La dimostrazione la si è avuta questa mattina. È come se fossimo tornati indietro di un anno, quando a dicembre del 2014 si protestava giustamente per il proprio posto di lavoro. A distanza di dodici mesi gli operai ritornano in strada. Hanno scenato un sit-in di protesta in via Generale Cascino ed in via Mare. La sera quando si arriva a casa attorno al tavolo con la famiglia si è finito di discutere. C'è un silenzio che comincia già a farsi molto ma molto pesante. Si guardano i figli, non si discute più. Questi sono i riscontri della situazione in cui siamo arrivati. E sull'albero di Natale, l'estito dinanzi allo stabilimento, non ci sono gli addobbi ma ci sono le lettere di licenziamento pervenute ai dipendenti dell'elettroclima. Tutte le promesse sono svanite nel nulla. Cioè il fatto strano è che lo Stato, cioè chi ci ha preso in gira è lo Stato. Perché noi ogni minimo due volte alla settimana siamo andati in prefettura. Cioè diverse volte personalmente io ho detto che la prefettura rappresenta lo Stato. Per cui tutti gli accordi che sono stati firmati in prefettura nessuno li ha rispettati. Per cui se ne è nello Stato che ci difende a noi cittadini. Una volta perché il prefetto non c'è per gli immigrati, una volta per la protezione civile, un'altra volta perché... ma noi non siamo cittadini italiani. Ci sono arrivate 58 lettere di licenziamento e quindi a questo punto siamo fuori completamente. non possiamo si fruire di nessun ammortizzatore sociale. Che noi non vorremmo, noi vorremmo solo lavorare, non parassitare lo Stato. Tutto questo, ecco.